Mister Grandoni, che dire, finalmente è partita questa preparazione atletica che vi porterà ad affrontare il campionato di Serie D? Sì, sì, abbiamo iniziato dopo quest'estate super travagliata, come tutti voi sapete. Abbiamo finalmente iniziato, quindi a noi ci piace stare in campo. Adesso dobbiamo soltanto lavorare bene e farci trovare pronti per l'inizio prima della Coppa Italia e poi del campionato. Il ritiro per me è importante, soprattutto quest'anno, perché siamo un gruppo completamente nuovo. Da staff tecnico a giocatori siamo al 100% nuovi, quindi al di là dei lavori ci dobbiamo conoscere, dobbiamo gettare le basi che sono per fare un buon lavoro. Quindi saranno lavori anche impegnativi, perché il ritiro dopo tante vacanze è brutto, tra virgolette, anche per questo, però è bello perché dobbiamo assolutamente capirci il prima possibile. Un campionato difficile, ma se dobbiamo parlare di moduli in campo, anche se poi conterranno pochi, qual è il modulo che predilige Mister Grandoni? A noi adesso mancano due pedine in due ruoli importanti. Una volta trovate queste due pedine deciderò il modulo. Io non sono né un integralista né uno che si fissa sui moduli. I giocatori sono i protagonisti in campo, io devo soltanto metterli nelle migliori condizioni possibili, quindi il modulo sarà deciso quando verranno presi gli ultimi due giocatori che servono. Ecco, per chiudere, come si trova qui in Abruzzo e la sfida col Chiedi Calcio? Dai primi giorni qua mi ricorda un po' la mia Umbria, io sono ternano, quindi anche noi siamo molto passionali, viviamo per il calcio. So perfettamente la passione che c'è qua, ci aspettano con grande entusiasmo, noi abbiamo l'obbligo, soprattutto morale, di non deludere la nostra tifoseria.